Piuttosto che mettere ancora un centesimo di tassa sui Veneti, andiamo tutti in strada e posso garantirvi che i Veneti vengano con noi. Nessuno tocchi la sanità. Luca Zaia è pronto alla battaglia per difendere il diritto alla cura e alla salute della persona. In una regione virtuosa come il Veneto, per il governatore il rischio di nuovi tagli voluto dallo Stato centrale non deve in alcun modo intaccare un sistema, nella fattispecie quello sanitario, che funziona e che per questo va al salvaguardato. Se tu cali su di me un taglio proporzionale di 200-300 milioni di euro, dico già che abbiamo l'unico posto dove ci sono risorse e la sanità, ma non le toccheremo mai perché i Veneti hanno il diritto di essere curati bene. E se per Zaia il giorno d'oggi parlare di federalismo fiscale è un'utopia, rilancio invece con i costi standard attesi dal 2011 finora mai applicati. Unica soluzione, secondo il governatore, per riequilibrare la spesa di un paese che sta pesando ancora troppo sulle regioni virtuose, costrette a sostenere, dice Zaia, il 60% del PIL italiano, vedendosi tornare in cambio poco o nulla. Non esiste che si possa pensare di tagliare 6 miliardi di euro, questa è la cifra che gira, dicendo che comunque non si taglieranno la sanità.